Buongiorno al dottore Claudio Saracino da Benessere L'Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo di mal di testa, mal di testa cronico. Io ho sofferto per tantissimi anni quando ero un ragazzo convinto che l'avevo preso da mia madre questo mal di testa e pensavo, come i medici mi dicevano, ereditario, ereditario, ereditario. In realtà non era ereditario quando mi sono approcciato all'ipnosi tantissimi anni fa e come me anche mia madre e tantissima gente il mal di testa è sparito in un flatto, in un nanosecondo grazie all'ipnosi vera e professionale. e aggiungo anche grazie all'auto-ipnosi vera e professionale. Per cui ti invito a sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona in Italia e all'estero e chiedere se hai affrontato casi di mal di testa cronico e provare ad eliminare la causa che ti causa questo mal di testa cronico perché deriva tutto dal tuo subcosciente e dal tuo pilota automatico. Non credere ma fai perché l'ipnosi non è né religione né politica e poi se non hai voglia di girare cappelle mandami un'email a ipnologia associati che oggi è una libro.it e il sottoscritto compatibilmente con i propri impegni e con i propri tempi ti risponderà gratis gratis dandoti dei consigli sul da farsi. Visita la mia fanpage su Facebook ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino visita il mio sito internet www.ipnologiaassociati.com iscriviti a questo canale YouTube benessere ipnosi soluzione del dottor Claudio Saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid che gli cambia la vita visita anche i miei profili Instagram e Twitter benessere ipnosi soluzione di Cels del dottor Claudio Saracino e al prossimo video un bacio e un abbraccio